Il caldo ed eccezionale inverno che sta vivendo l'Antartide a causa dei mutamenti climatici, con temperature arrivate anche a picchi di oltre 20 gradi, preoccupa e molto gli scienziati. Ma li mette anche di fronte a scoperte inaspettate. Come questa, un'isola lunga 350 metri, fino ad oggi completamente nascosta dalla coltre di ghiaccio. Ghiaccio che qui, nella piattaforma di Twites, nel sud ovest antartico, si sta sciogliendo molto più rapidamente che altrove, in tutto il polo sud. L'isolotto ha già un nome, Sif, come la consorte del Diotor, è fatto di granito vulcanico e per ora ospita solo qualche foca. Le immagini da satellite in time-lapse mostrano chiaramente i ghiacci mentre si sciolgono e l'isolotto che compare come dal nulla. E non è solo colpa del caldo fuori norma. In realtà, dicono i geologi, il ritiro così rapido dei ghiacci dell'Antartide oltre ad alzare il livello dei mari e alterarne la salinità, esercita una pressione eccezionale sulla crosta terrestre. Ed è proprio questo fenomeno che potrebbe avere portato l'isola di Sif al di sopra delle acque.